si è aperto sabato 10 luglio a Vasto in provincia di Chieti il festival dell'apprendimento continuo siamo alla quarta edizione ne parliamo con il direttore della manifestazione che è il dottor Francesco Marino che è qui con noi la manifestazione è promossa dall'associazione maestri fuori classe ed è curata sostenuta dalla società di consulenza Creo allora dottor Marino perché questo festival dell'apprendimento continuo e già si è già aperto sabato però diciamo che il cuore delle iniziative sarà proprio durante questa settimana di che cosa si tratta? Allora abbiamo iniziato sabato inaugurando il contest la mostra di fotografie abbiamo fatto indetto un concorso di fotografie sul tema il lavoro che racconta perché partiamo sempre dall'idea che il lavoro scusate siamo nel pieno della manifestazione stiamo iniziando proprio tutti i lavori perché a momenti siamo già in una situazione in cui sono partiti i laboratori e alle 18 ci sarà la Magistralis e dunque un contest di fotografia per accompagnare l'idea del festival del questa organizzazione in evoluzione il mondo del lavoro il mondo del lavoro il mondo di apprendimento continuo il mondo del lavoro per noi è come dire quello spazio dove le persone diventano quello che sono crescono perché c'è un lavoro io dico sempre il lavoro che fai ti fa no e quindi ti fa essere ti fa diventare quello che sei in qualche modo allora comunque in ogni caso il lavoro il contest fotografico è un appendice del festival il festival vero e proprio è riunire persone professionisti autorevoli menti eccelse particolarmente attente alla loro disciplina ma anche a quello che succede nella realtà complessa in cui viviamo per raccontarci il loro punto di vista sul mondo sulla realtà maestri fuori classe quest'anno è alla quarta edizione e il tema è attraversamenti attraversa menti menti che attraversano le varie discipline è un festival interculturale perché non è un festival di filosofia o di scienze o di creatività vedo che vi piacciono parecchio questi giochi linguistici attraversa menti e maestri fuori classe allora fermiamoci un attimo sul fuori classe perché fuori classe maestri fuori dalla classe o maestri fuori classe nel senso di maestri molto bravi o entrambe le cose è infatti la seconda entrambe le cose perché l'apprendimento che noi cerchiamo di favorire un apprendimento che avviene fuori dalla classe perché in classe noi apprendiamo quelle che sono i percorsi classici no di formazione scolastica universitaria disciplinare specialistica maestri fuori classe perché le persone che invitiamo sono veramente dei fuori classe perché hanno la capacità di attrarre la capacità di parlare a tutti la capacità di arrivare perché così per noi è inteso l'apprendimento uno scambio continuo un incontro continuo fra persone che scambiano idee che scambiano esperienze e così si cresce ecco quali sono gli appuntamenti della settimana a proposito di maestri fuori classe quali fuori classe avete invitato e quali quali relazioni sono previste allora iniziamo oggi lunedì 12 luglio con adriano favole che è un antropologo un professore di cultura e antropologia culturale all'università degli studi di turino poi abbiamo roger abravanel che è un saggista e uno scrittore ex presidente di mckinsey persona ha scritto un bellissimo libro appena pubblicato che si chiama aristocrazia 2.0 il tema che tratterà roger è come giovani si impegnano e studiano per l'eccellenza come i giovani che si impegnano e studiano per l'eccellenza possono migliorare se stessi e salvare il paese poi domani invece avremo una persona eccezionale suora alessandra smedilli mesmerilli una giovane suora molto vicina a papa francesco e parlerà di donna economia come prendersi cura del bene comune avremo mercoledì leonardo becchetti economista professore di economia politica all'università torvergata di roma che terrà una lezione magistrale sul tema la felicità esiste ma è faticosa passiamo a giovedì una vincitrice del premio campiella di pietro antonio faremo una lunga e interessante chiacchierata con lei all'interno della sua poetica della sua narratività per finire con il maestro il professore d'italia ma è matteo saudino che ha un seguito di follo youtube che come dire vorremmo avere tutti quanti matteo saudino parlerà della sua scuola umanista per uscire dalla crisi pedagogica questi sono i maestri maestri che terranno le lezioni magistrali intanto una domanda ma come avete selezionato i maestri fuori classe come vi avete scelte con quale criterio avete invitato l'uno piuttosto che l'altro allora come tu hai ben evidenziato noi cerchiamo di mettere sempre due elementi insieme no come dire quasi il piacere il dovere no il talento la tecnica della forma il contenuto ecco in questo caso abbiamo fatto prevale la forma il contenuto il contenuto è la disciplina come dire i contenuti di cui è portatore portatrice la persona ma anche come li eroga come li racconta come coinvolge il pubblico come cattura il pubblico noi abbiamo scelto persone che hanno carisma che sanno coinvolgere parlare a tutti che sanno arrivare alle persone per cui il loro incontro non dovrà non potrà mai essere noioso pedante autoreferenziale come a volte spesso ci capita di sentire in aule oppure fuori dalle aule a convegni incontro noi abbiamo bisogno di una parola che passa una parola che fa crescere le persone una parola che apre le menti che non le chiude perché a volte troppi tecnicismi troppi specialismi fanno come dire creano distanza noi abbiamo bisogno di avvicinare abbiamo bisogno di includere di far convergere allora abbiamo bisogno che siano capaci capaci di fare questo i nostri maestri sono stati scelti con questa specificità hanno la capacità di attrarre e di arrivare al pubblico ecco però non ci sono soltanto incontri con maestri fuori classe voi avete previsto anche altre attività dei laboratori è giusto giustissimo ci sono sei laboratori quindi noi pratichiamo come dire un festival che si dedica all'apprendimento che può essere più concettuale nelle lezioni magistrali che ogni sera ci accompagneranno ma tutti i giorni ci sono laboratori pratici laboratori dove le persone possono elaborare su quel tema ecco dopo di che c'è una chiusura importante con una tavola rotonda che concluderà praticamente i lavori di questa eccellente settimana che state aprendo proprio nella giornata di lunedì di lunedì è giusto di cosa 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 succederà della tavola rotonda allora la tavola rotonda è stata pensata quale formazione per il futuro da un punto di vista lavorativo di formazione professionale come la formazione può aiutare le aziende le organizzazioni a fare meglio quindi formazione e lavoro formazione al lavoro o lavoro e formazione quindi sono i due temi ecco perché noi abbiamo vedi reginaldo abbiamo cominciato a parlare con il contesto fotografico riferito al lavoro finiamo con la tavola rotonda che unisce il concetto dell'apprendimento continuo della formazione al lavoro sul lavoro sono stati invitati la nunzia catalfo che ex ministro del lavoro e alle politiche sociali un altro ex sindacalista nazionale marco bentivogli della cis poi altre tre persone che a vario titolo si occupano di formazione antonello calbaruso che è stato presidente dell'associazione italiana formatori alessandra spagnoli che è una manager della società milia e pina basti che è il manager della società people strategy people strategy loro sono esperti della formazione e del lavoro formazione apprendimento al lavoro quindi con loro parlerà parleremo dei punti che ognuno porterà un'esperienza un punto di vista su dove sta andando la formazione l'apprendimento che si che si svolge all'interno delle nostre organizzazioni come il lavoro può migliorare grazie alla formazione ho visto che questa è la quarta edizione l'abbiamo detto le edizioni precedenti si sono svolte in regioni del sud questa volta tocca alla provincia di chieti c'è un motivo probabilmente per cui avete fatto questa scelta no quindi anche la scelta di organizzare questa manifestazione non in luoghi tra virgolette importanti milano roma o bologna ma in aree un po secondarie rispetto alle grandi alle grandi città metropoli perché questo perché io penso che queste regioni abbiano bisogno di sviluppo se ne parla sempre le regioni meridionali le regioni anche del centro qui siamo in abruzzo anche l'abruzzo a volte ha bisogno di essere sostenuto accompagnato io penso che la formazione l'apprendimento possa essere un veicolo per migliorare le condizioni economiche sociali culturali ovviamente come in primis è un viatico è un modo per stimolare sensibilizzare nuove idee nuove opportunità per far crescere quella realtà da un punto di vista sociale culturale ed economico e quindi andiamo a cercare quei luoghi dove è più necessario più giusto più utile portare questi momenti di incontro dove ti assicuro è sicuramente più più difficile organizzare gestire far coinvolgere le persone però ti assicuro che per esempio qui a basto abbiamo tutti i laboratori esauriti noi abbiamo messo un limite di 20 persone proprio per i laboratori per renderli più praticabili che sennò sarebbe un laboratorio non sarebbe una cosa sarebbe una conferenza abbiamo dovuto superare il limite siamo arrivati in alcuni casi a 30 35 persone proprio per dare possibilità a tutte le persone di partecipare quindi siamo all'inizio e posso dirti che già un successo quindi siamo molto felici di averlo fatto in questa regione la risposta è entusiastica quindi sono molto contento speriamo di continuare e di continuare a crescere per intanto noi vi facciamo i migliori auguri per questa interessante iniziativa e arrivederci a prossimamente non appena sarà possibile magari ritornare fra di voi per parlare di qualche tema più specifico grazie a francesco marino e ancora davvero molti auguri a maestri fuori classe grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti